Ma si può andare a Parigi e giocare 94 minuti uno contro uno? Benvenuti sul canale YouTube del Tattico. Oggi analizziamo con la lavagna ovviamente Paris Saint Germain Milan e vediamo la situazione che ha inciso nel Milan in negativo e soprattutto vi farò vedere quale potevano essere le contromosse e soprattutto quali erano le posizioni e le funzioni di alcuni giocatori che non hanno inciso. Ma prima di tutto, sigla! Prima di iniziare vi ricordo sempre iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno di questi contenuti e se vi piacciono di lasciare sempre un like ma adesso andiamo a vedere la situazione tattica che ha inciso in negativo per il Milan. Andiamo a vedere con l'aiuto della lavagna tattica qual è stata la situazione negativa per il Milan nella partita contro il Paris Saint Germain. I gialli sono il Paris Saint Germain, i rossi il Milan. Fase di costruzione. Palla qua, dov'è che il Milan sbagliava a mio avviso anche perché nell'accettare l'uno contro uno e soprattutto, attenzione, preservando la fase di non possesso a un giocatore che non ha inciso che è Raffaele Au. Questo. L'andiamo a vedere. Livello di costruzione. Loro costruivano praticamente con i quattro più i due centrocampisti. questa situazione qua, con il centrocampista di destra che si alzava in questa zona qua e vi spiego perché. Si alzava in questa zona qua perché la sua intenzione era di riproporre un quattro contro quattro Mbappé, Colomani, Dembélé con Vitigna o il ragazzino Zairemery che si posizionava in questa situazione qua facendo uscire, volendo far uscire l'altro centrale per creare un quattro contro quattro. Ma come ci si arriva a tutto ciò? In fase di costruzione, quindi palla al centrale di destra, cosa succedeva? Era Raffaele Au che non si preoccupava di Hakimi ma andava sul difensore centrale e ovviamente in fase di giropalla costringeva Musa a uscire, quindi preservare la fase di non possesso a Raffaele Au che praticamente rimaneva sul difensore centrale, si alzava Krunic, si alzava Reinders sui due centrocampisti e rimaneva questa situazione qua. È quella che ha influito di più nel Milan anche perché questa era una zona che siamo andati quattro contro quattro e soprattutto ci ha impensierito molto anche lo scambio di posizione tra la mezzala che veniva qua quindi in questa zona qua il Milan era totalmente sgombro solamente ed esclusivamente perché Raffaele Au doveva mantenere la sua posizione solamente in fase di possesso, non era in non possesso. Secondo me una soluzione per superire a questa situazione era semplicemente andare a mettere un centrocampo a due con Reinders quindi 4-2-3-1 quindi 4-2-3-1 in questa posizione mantenendo Giroud Reinders qui avendo più copertura in questa zona qua quindi impedendo sempre il discorso del quattro contro quattro anche perché qua c'aveva un centrocampista in più che mandava a occupare questa zona quindi impedendo le situazioni di quattro contro quattro avendo sempre un sostegno e soprattutto facendo fare a Raffaele Au quella che era anche la fase di non possesso quindi più bassi costruzione praticamente così Giroud che mi andava a dividere mi indirizzava dalla parte del campo questo e a questo punto qua potevo uscire, andava a costruire uscivo con Reinders, uscivo con Musa e avevo sempre una situazione di più uno in fase di non possesso in fase difensiva in questa situazione qua e andava a sopperire quella che è stata la criticità del Milan cioè questo centrocampista non coperto da nessuno dei nostri centrocampisti quindi la situazione che il Milan ha fatto per 94 minuti era di quattro contro quattro e quella che il Paris Saint Germain voleva in questa situazione qua usciva sempre e permetteva la verticalizzazione su un Bappé 3 contro 3, 4 contro 4, questa è stata la chiave negativa del Milan in questa partita non puoi andare a Parigi soprattutto e presentarti in una situazione di 4 contro 4 per 94 minuti bastava semplicemente andare a un centrocampo a due, coprire questa zona e evitare le ripartenze avere un atteggiamento meno presuntuoso contro il Paris Saint Germain e forse magari portavamo a casa la partita non puoi andare a casa la partita non puoi andare a casa la partita